Sabato 21 ottobre il Teatro Nicola Vaccai della città di Tolentino ha ospitato la serata a teatro conformato organizzata dall'azienda Tolentinate formato SRL che ha voluto mostrare in anteprima la nuova collezione di arredi ispirati ad alcune delle più celebri opere d'arte. A condurre la serata Luca Eboli hanno partecipato tanti talenti del nostro territorio come il piccolo pianista Alberto Cartuccia Cingolani, il liceo coreutico dell'istituto di istruzione superiore Francesco Filelfo, gli allievi del centro teatrale San Gallo e le danzatrici dell'associazione culturale Altra Scena. Una serata direi molto molto bella in un luogo altresì straordinario di cui ormai ogni parola credo sia superflua il Teatro Vaccai, questa nostra eccellenza del territorio che ha ospitato un'altra eccellenza del territorio, due giovani imprenditori che ricalcano un po' la storia della loro famiglia quindi possiamo essere soltanto che orgogliosi di avere nella nostra città due nuovi imprenditori giovanissimi con un'attenzione particolare al futuro e comunque all'arte che ben si è sposata in una serata così magistralmente condotta da Luca Eboli e quindi ci ha fatto veramente stare bene, ci ha fatto stare bene e pensare che ci sono dei giovani che guardano il futuro, che sanno guardare il futuro in luoghi storici. Allora se dovessimo raccontare la serata, due parole, Francesca? Secondo me è andata molto bene, i ragazzi sono stati bravissimi, Chiara che ha curato la regia è stata eccellente, io non ho visto sbavature, a parte il mio tacco però non ho visto sbavature. Quindi tutto alla grande, dico bene? Sì sì, alla grande una serata che comunque volevamo impostarla, molto leggera e così è stato perché contributi dal monologo ai balletti a Alberto, tutti contributi molto semplici ma efficaci. Una cosa è certa, ci siamo divertiti per questa serata targata formato. Chiara, due parole? Sì, allora è stata intensa per chi sta dietro ma è stato bello poi vedere il risultato finale perché sono stati tutti molto bravi, quindi sono soddisfatta. Aspetta, chiediamo a Canale 16 se siamo andati realmente bene. Siamo andati bene? Perfetto, grazie. E se lo dice Canale 16, ma perché io ho il microfono in mano di Canale 16? Non lo so, però comunque sia, vabbè, saluto la mia mamma. Ciao mamma, era qua, poco fa era qua mia mamma. Ciao. Grazie a tutti.